Salve a tutti ragazzi, bentornati, un bacio dal SIBE, oggi vi porto un nuovo settaggio per DS4, come avete visto dalla copertina, porterò l'anti-recoil. Ragazzi, io come sempre vi ringrazio per il vostro supporto e vi chiedo come sempre di lasciare sempre un bel commento sotto il video per capire come vi state trovando con questo settaggio. Mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati in tempo reale sui nuovi contenuti, ma soprattutto se potete abbonatevi al canale per supportare questo tipo di format. Mi raccomando ragazzi, seguite bene passo per passo perché ogni cosa che farò sarà fondamentale. Io vi auguro una buona visione, un bacio dal SIBE, bella raga. Allora, eccoci qua ragazzi, siamo alla schermata principale, diciamo, del DS4 Windows, dove legge il nostro controller. Qui c'è già la macro che abbiamo messo lo scorso video, è uscito ieri, dell'YY, più lo slide cancel. Quindi andate a vedervi questo contenuto per essere sintonizzati con tutti i contenuti che sto postando perché si possono unire tutte le macro ed esce fuori un bel settaggio. Quindi prendetevi quel video, prendete il video di oggi, uniteli e vedrete che uscirà un prodotto, diciamo, speciale. Scusatemi, stavo pensando. Allora ragazzi, senza perdere tempo, io andrei a fare edit. Come sempre, vi ricordo sempre di mettere la Deazon a 0.08, 1.00 e 0.20 l'anti Deazon. Lineare, poi andando giù, mi raccomando, nell'RS andiamo a mettere gli stessi valori, però a questo punto andremo a mettere Enhunked Precision. Servirebbe per avere un po' più precisione. Adesso, primo passaggio da fare, andare qui sulla sinistra, dove potete vedere che sto premendo R2 sul controller. Chi usa R1 per sparare schiaccerà R1. Prevengo le vostre domande, scusatemi. Quindi, facendo su R2, andremo a cliccarci sopra, si aprirà una schermata dove farà vedere la tastiera e il mouse più controller. Noi qui andremo a pigiare sul tasto sinistro del mouse e poi lui automaticamente uscirà da questo menu che si apre a tendina. Successivamente andremo a fare Special Action. Adesso io lo rifaccio, così potete vedere. Fate New Action, andate a premere quello che volete, R2 per chi spara con R2, R1 per chi spara con R1. Qui andremo a mettere Record a Macro. Fate Repeat, Wild, Held e fate Record a Macro. Adesso io vi faccio vedere quella che c'è già. Facciamo Edit. Come potete vedere, c'è R2, Repeat e Record. Io ho già messo i tempi, adesso vi faccio vedere come fare. Adesso, ragazzi, io cancellerò tutto in modo da rimettere gli stessi valori, però vi faccio vedere come si fa. Quindi facciamo Clear, andiamo a fare Repeat, Wild, Held, Record. Andiamo a premere una volta la levetta di destra verso giù. Mi raccomando, seguite bene questo passaggio. Andremo a mettere qua tre volte Insert White. Poi premiamo RS Down e andiamo a mettere Insert White. Qua abbiamo messo 600. 11. 1. E qua andremo a mettere di nuovo 10. Adesso controlliamo che abbiamo messo Repeat, Wild, Held e facciamo Salva. Come potete vedere, qua rimane così. Bisogna mettere il nome, ovviamente, Salva e andiamo a selezionarlo. Adesso io lo deseleziono e passiamo al poligono. Vi faccio vedere come l'arma prima e dopo il No Recoil. Ed eccoci qua ragazzi, adesso andremo sul poligono di tiro. Quindi mi raccomando, seguite bene questo passaggio. Scusate, mi stavo solo salzionando il controller. Allora, andremo su Armi, poligono. Gli diamo solo due secondi che lui si carica. Ok, ci siamo. Cambiamento equipaggiamenti. Io l'ho provato sul Kilo, questo settaggio ragazzi. Adesso vi faccio vedere senza niente, diciamo, come spara l'arma. Siamo vicino, lo so che molti di voi chiedono un rinculo lontano. Però ovviamente a me viene comodo per fare video veloci sul poligono di tiro. Quindi comunque guardate qua, senza, diciamo, la macro comesso come spara l'arma. Come potete vedere l'arma sale di molto. Ha un rinculo abbastanza controllabile, comunque non sto premendo la levetta. Però si nota notevolmente. Adesso ragazzi andremo ad attivare la macro. Quindi andiamo qua. Facciamo Edit. Anderemo su Special Action, Non Recoil, Apply, Save. Adesso torniamo sul gioco. Adesso ci siamo. Non so se si riesce a vedere. Guardate, io non tocco la levetta. Quindi torniamo tutto indietro. Io partirei più o meno da dove siamo con gli altri. E spariamo. Come potete vedere, il rinculo è abbastanza ampio. Però è già più controllato. Confronto a prima. Però vi faccio vedere come modificarlo. Allora, una cosa che possiamo fare è andare qua. Edit. Andiamo a Special Action. Andiamo qua. Edit Action. Record a macro. Possiamo provare a mettere uno qua e 11 sotto. E fare Save. E qua c'è Repeat. Ok. Save. Apply. Save. Andiamo a vedere se in game è cambiato qualcosa. Vediamo. Come potete vedere l'arma sale e scende ancora di tanto. Quindi possiamo fare ancora Edit. Io vi sto facendo già vedere un po' più o meno come settarla. In modo che non vi do il prodotto finito. Ma vi faccio capire in base anche alla vostra arma come fare. Allora, io qua rimetterei 11. Qua mettiamo 1. E qua andrei a mettere... Proviamo un 800. Perché sta scendendo di tanto. Facciamo Repeat. Save. Qua facciamo Save. Apply. Save. Andiamo qua. Adesso siamo sempre, diciamo, sul poligono. Andiamo a ricaricare. L'arma è carica. Miriamo. Non so se si vede. Comunque adesso sparo. Adesso lui, diciamo che sembra che saltelli. Quindi vi può dare anche un po' fastidio come cosa. Però, come potete vedere, praticamente lui si aggiusta. Infatti, guardate. Se noi partiamo, lui poi tira giù l'arma senza che noi tocchiamo il grilletto. Questa cosa, una volta che impariamo questo meccanismo, come potete vedere... Ci aiuta di tanto, raga. Perché è qualcosa di molto comodo. Adesso, guardate, io tengo un po' la levetta. Proviamo a sparare a quello in fondo. Comunque l'automira c'è. Io vi consiglio di modificare sempre i vostri parametri in base all'arma che usate. Vi ho fatto vedere i parametri da usare. Ovviamente, i primi tre parametri sono per, diciamo, il rinculo che va in su. Quindi, più diminuite quelli, più l'arma va in giù, come avete visto. E invece, il parametro sotto, io lo lascio così, perché ho notato che quasi tutte le armi, praticamente, vanno in su. Quindi, va bene, dieci è un ottimo valore. Comunque, ragazzi, se volete, diciamo, modificare altri parametri, io ve lo consiglio, perché questo qua è per il chilo. Non è, diciamo, un'arma ferma, ma, come potete vedere, lui piano piano ritorna dalla posizione iniziale. Questa cosa qua ci aiuta già tanto. Poi, se noi volendo gli mettiamo il dito sopra, è tanta roba, raga. Quindi, io vi consiglio molto di usarlo. Ebbene, siamo arrivati alla fine. Io, come sempre, vi ringrazio del vostro supporto. Fatemi sapere come vi trovate. Anche se non gradite questa macro, potete dirmelo tranquillamente. Io apprezzo anche le critiche, ragazzi. Non fatevi nessun problema a dirmelo. Anzi, io, dalle critiche, cerco sempre di migliorarmi. Quindi, benvengano. Ragazzi, io vi auguro una buona domenica, ma soprattutto una buona visione e un buon gameplay. Un bacio dal Sibe. Bella, raga.